Bisogna garantire una concorrenza leale, c'è troppa discrepanza tra un albergo e le nuove formule ricettive. E di questo avviso il presidente di Federalberghi Gianmarco Giovannelli, che torna a chiedere una stretta sulle recettività come Airbnb e sugli affitti brevi turistici, con una normativa uniforme a livello nazionale. Nulla da togliere su alcune realtà lealmente costituite, tipo i B&B, ma anche i residence, residenze turistico alberghiere, l'extra alberghiero, normato e strutturato. E' chiaro che il monitoraggio di tutte quelle attività che si ritengono essere non estremamente legate ad una formalità, sia fiscale che normativa, di funzionamento, debbano essere monitorate, ma questa è un'attività che deve partire da noi stessi. Anche dai nostri segmenti, dai nostri settori, perché oggi con la storia dell'interno dei borghi, con la storia degli affitti brevi, troppe persone affittano appartamenti che non rispondono a nessun equilibrio, a nessun principio, ma sono totalmente assenti da una identità aziendale, professionale e direi anche fiscale. L'obiettivo è quello di scongiurare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità e alle possibilità ricettive locali e allo stesso tempo impedire lo spopolamento dei centri storici del paese salvaguardandone gli abitanti. Dalla mattina alla sera nascono nuove realtà dove è possibile fare pernottamento e prima colazione, spesso convenzionati anche con dei bar limitrofi. Noi capiamo che le formule possono essere tante e che in alcuni territori non ci sono ricettività facilmente raggiungibili, ma questo non lo accettiamo, soprattutto nelle grandi località dove non è consentito oggi un monitoraggio, dove invece è necessario anche a fronte dei principi di sicurezza, dei principi anche igienici sanitari, ma anche nel rispetto delle attività legittimamente costituite, che pagano le tasse e che comunque hanno oggi l'onere anche di seguire le logiche della concorrenza e anche di tutti quei costi che sosteniamo per tenere in piedi un'impresa.